Grazie per la visione! Il campo è un po' scompeso. Il campo è un po' scompeso. Il campo è un po' scompeso. E poi siete passati? No, sì, non ce l'avevo fatto. Non l'avevo fatto un po' qua. No, non l'avevo fatto un po' qua. No, non l'avevo fatto un po' qua. E' un po' che si deve piacere. E' un po' che c'è un po' iniziato. Tra le aree... 20, 20 dados. Grazie a tutti No, prima c'è Cambos e poi c'è la deviazione per Taramba Qua c'è Pivi, il giro sinistra Allora, aspettane Cambos Questo pezzo non abbiamo mai fatto Dicono che siamo solo di extracampos Ah, sì, campos Sì, campos, c'è sempre un campos Sì, dopo un po' qui Dopo il testo è il campos, però non capisco perché Cambos, proprio E adesso tra poco sulla destra c'è una deviazione per Taramba Sulla destra E c'era quel pezettino che si avvicina No, 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 è Tarambados, allora c'è una qualcosa qui Di qualcosa qui E qualcosa più avanti Sulla curva c'è la deviazione Quindi vai giù a destra Per Tarambados Si, però prima c'è Tarambados che è questo qua E' questo, semplicemente questo E' questo qua si è lì, è quello lì si, qui è questo e qui ci sono le macchine e qui ci sono le macchine, vuol dire che va bene qua, non c'è l'esterno che va su ci sono le macchine, vuol dire che va bene grazie a tutti